Un terremoto piuttosto forte di 5.8 è stato registrato nella parte sud del Giappone. Avevo le venture 23 locali, erano le 14 e 23 in Italia, con l'epicentro nella prefettura di Ibaraki, adesso di Tokyo. Non è stato non ciò ad un allarme tsunami, misurando l'intensità della scossa di 5.8 nella scala nipponica di misurazione massima di 7 livelli, e su allarme tsunami per fortuna non si sono registrati danni a cose o persone insieme al terremoto, verificato di 100 km da Estdico a Tokyo, all'eventure di 30 locali. Secondo la Giappa della Regione di Agency, che ha registrato una nuova 5.8 e 5.6, l'epicentro, ci sarebbe registrato 40 km di profondità nella prefettura di Ibaraki. Bene, questo sarebbe fatto. Ringrazio per l'ascolto Grazie a tutti.